Don Quixote, pubblicato in due parti, la prima nel 1605, la seconda nel 1615, racconta le vicende di un povero idalgo, nobiluomo, di provincia di circa 50 anni, che, a forza di leggere libri di cavalleria, perde il giudizio. Completamente immerso nel suo mondo fantastico, decide di farsi cavaliere errante. Dopo essersi provvisto di un nome adeguato, Don Quixote della Mancia, di una dama, Dulcinea del Toboso, e di uno scudiero, Sancio Panza, a mille avventure, fino a quando, tornato in possesso del suo giudizio, prima di morire, rinnega tutte le letture dei detestabili libri cavallereschi che gli avevano offuscato la mente. Riconosce la propria stoltezza e dichiara di non essere più Don Quixote della Mancia.